Io ho avuto già l'onore di ricoprire questo ruolo una quindicina di anni fa, il sindaco Ghinelli mi ha voluto ridare questo onere e d'onore per cui lo ringrazio, ringrazio il Consiglio Comunale e la maggioranza che lo sostiene, le linee guida saranno rispettare la mission che ha AFM che è un'azienda all'80% partecipata da privati e al 20% dal comune ma che è un'azienda che tratta un ramo delicato per certi versi socialmente rilevante che è quella della distribuzione delle medicine, quindi la vendita delle medicine, dei farmaci ma anche la distribuzione di alcuni servizi. Faccio un esempio, quest'anno durante l'agosto prima volta dalla sua fondazione, tutte le farmacie comunali che insistono nel nostro comune saranno aperte e saranno aperte perché ci rendiamo conto purtroppo per un certo verso che la farmacia è uno di quei presidi nei quartieri a cui i cittadini tengono molto e fanno riferimento. Ci saranno novità anche nel futuro rispetto ad alcuni servizi, penso alla presenza di infermieri per l'erogazione di servizi specifici dentro le farmacie e quindi cercheremo di combinare un giusto e attento interesse anche ad una buona gestione aziendale e ad una giusta e buona e corretta fornitura di servizi ai cittadini.